La Procura Generale di Reggio Calabria ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza con cui la Corte d'Appello, nello scorso mese di ottobre, ha ridotto da 13 anni e due mesi a un anno e sei mesi di reclusione, la condanna che era stata inflitta in primo grado dal Tribunale di Locria Mimmo Lucano, oggi europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, per i presunti illeciti nella gestione dell'accoglienza dei migranti a Riace, comune in cui lo stesso Lucano è tornato a fare il sindaco. Nel processo di secondo grado, Lucano è stato assolto da tutti i reati per i quali era stato condannato in primo grado, ad eccezione di un singolo episodio di presunto falso. Per la condanna che gli è stata comminata in appello, gli avvocati Andrea D'Acqua e Giuliano Pisapia, difensori del Lucano, hanno presentato anche loro ricorso in Cassazione. L'iniziativa della Procura Generale non riguarda i reati di associazione per delinquere, quattro episodi di peculato e due falsi, per i quali l'assoluzione di Lucano è ormai definitiva, ma riguarda gli episodi di truffa aggravata, abuso d'ufficio e un falso contestato all'europarlamentare. Sono sereno, commenta Lucano rispetto al ricorso in Cassazione presentato dalla Procura Generale, che aveva tutto il diritto di impugnare la sentenza assolutoria, così come i miei legali hanno provveduto a impugnarla nella parte in cui la Corte d'Appello mi aveva condannato per una ipotesi molto residuale di falso contestato. Una cosa comunque già chiara, dice Lucano, la Procura Generale ha condiviso, e questo per me è motivo di soddisfazione, la soluzione pronunciata dalla Corte d'Appello di Reggio per le gravi ipotesi di reato che mi erano state contestate, quali l'Associazione per delinquere, il peculato, l'abuso d'ufficio, alcune ipotesi di falso collegati alla mia attività di sindaco.